Signori benvenuti a Begolino TV ecco la sigla il massimo della tecnologia ecco il movimento tra l'altro una cosa veramente eccola che riparte per chi non l'avesse capita parte anche una terza volta perché è anche in loop quindi possiamo fracassarvi le scatole eccola di nuovo potremmo fare per un ora così sarebbe molto bella la cosa ma basta signori nostro ospite oggi a Begolino TV il tenore in pigiama e ogni mercoledì alle 7.25 canta le serenate per i nostri ascoltatori cioè Patrick Salati che cos'è? buongiorno un attimo che spolvero la cosa saluta Patrick saluta Begolino sì buongiorno Begolino il signore Patrick è qui con noi attenzione no gli è abbassato lo scherzo della sedia ma basta la sua scusa lì sotto ma lui non si vede ecco si si è lo scherzo della sedia ma come si fa la riduzione? allora Patrick intanto Patrick dalla prossima settimana noi ti facciamo i complimenti perché hai il colore natalizio rosso della prossima settimana ma il rosso nero mi da un po' da fare no ma lasciamo secondi comunque dai canzoni natalizie nel momento del tenore in pigiama puoi farci un'anteprima di qualcosa di natalizio? sì facciamo un jingle band dai dai jingle band jingle band jingle band jingle band poi invece mercoledì sarà una sorpresa che ah sì non puoi fare no? eh no ci saranno che sorpresa è la cosa possiamo vedere il biglietto per qualsiasi allora parliamo di cose serie insieme a Patrick Salati il 22 di dicembre ci sarà Patrick and Friends aspettando il Natale al Teatro Storchi di Modena questi sono i tickets però veri non sono quelli secondari sai quelli che bravo esatto mica roba da call play ecco no 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 questi esistono perché Begonino ha già acquistato questo biglietto qua questo sono veri allora ci sarà un'operazione dedicata costa 25 euro sì che ci sarà a Patrick Salati and Friends al Teatro Storchi ma ci saranno tanti artisti tanti giovani artisti sì il programma è il classico del Patrick and Friends musica a 360 gradi avremo un ospite che ha vinto il programma dell'Italia's Got Talent 2013 che è Samuel Barletti grande siamo il ventrilo qua il ventrilo qua ma soprattutto i proventi andranno all'associazione Pollicino della Neonatologia a sostegno a Modena beh questa è una bella cosa guarda che sono bravo anch'io a fare il ventrilo qua sì attenzione attenzione Begonino anch'io ci sarò questo spettacolo è uno spettacolo imperdibile con la mano così davanti sembra che devi ruppare comunque non abbiamo detto la cosa più importante che la serata sarà presentata no ma non lo dico non lo dico che non viene nessuno si sa che ce ne saranno le coppe non vengono ci sei tu sì sì saranno loro che per loro è un problema serio perché dovranno presentarsi al minimo giacca e cravatta mamma mia questo è terrore terrore terroissimo è ricco già è male a pensare hai una giacca e cravatta da prestarmi perché io non ce l'ho sì 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 scusa la pre vendita è a Radio Bruno quindi potete venire o potete chiamare si ascolta anche lo spot che passa bravissimi allora ragazzi vi aspettiamo 22 dicembre teatro Storchi è un appuntamento natalizio quindi sarà bellissimo a Modena con Patrick Salati and Friends per far del bene a Pollicino neonatologia dell'ospedale di Modena Pollicino che fa rima con con Begolino saluta con Begolino cantato da te vai 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 Begolino Begolino vi aspetto a Natale ciao sopra che voce mamma mia